Il mercato del Pescara in partenza Vincenzo Fiorillo, Salernitana in pressing, tra poco ci torneremo intanto in via di definizione la maxi operazione con la Ternana in Umbria, il difensore danese Sorensen al Delfino invece Frascatore e Marilungo. Per quanto riguarda Paolo Frascatore, 29 anni, classe 92, si tratta di un ritorno, scuola a Roma, prodò in Biancazzurro dal Sassuolo, proprietario del cartellino nell'estate 2013 in via, allenatore Pasquale Marino, esperienza terminata gennaio 2014 quando si trasferì alla Reggina. Con il Delfino quattro presenze in campionato, una in Coppa Italia, fu preso come laterale mancino negli anni molto meglio da centrale della difesa 3 nel Sio di Tirol e nella Reggiana. La scorsa stagione 12 presenze nella Ternana, è stato chiuso però Frascatore dall'immarcescibile Carlo Mammarella, in Cia vestito le maglie di Ternana, Sio di Tirol, Reggiana, Pistoiese, Benevento, Triestina e Padova. Per quanto riguarda invece Guido Marilungo non ha bisogno di presentazioni, attaccante classe 1989, non ha bisogno di presentazioni, 76 presenze in Serie A con le maglie di Sampdoria, Atalanta, Empoli e Cesena. Il nazionale Under 21, 7 presenze, 2 gol, 142 gettoni in Serie B con Lecce, Atalanta, Cesena, Lanciano e Spezia, 79 in C con Ternana. Monopoli e Carrarese con la Carrarese negli ultimi sei mesi della stagione appena trascorsa, 20 gettoni in presenza e 5 gol. Nella prima parte invece aveva militato sempre in prestito dalla Ternana nel Monopoli con il Lanciano, 6 gol nel 2015-2016 in Serie B. Tornando invece a Vincenzo Fiorillo, Fiorillo abbiamo detto in apertura nei titoli potrebbe trasferirsi, anzi in via di definizione anche questa cessione in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza alla Sernitana. La Sernitana di Fabrizio Castori, tra l'altro Vincenzo Fiorillo ha totalizzato il record di presenze come portiere del Delfino, ben 224, è pronto a dire sì alla Sernitana. È ancora legato al Delfino, lo ricordiamo, da un contratto sino al 30 giugno 2024. Chiaramente se va via Fiorillo bisognerà trovare un sostituto, si parla di Anthony Iannarilli che è un classe 90, lo scorso anno ha vinto il campionato con la Ternana in Serie C, ha giocato praticamente tutte le partite. Una carriera spesa in C con Isola Liri, Salernitana dove ha vinto un campionato di C2 nel 2012-2013, Gubbio, Pistoiese, Viterbese e appunto Ternana, complessivamente circa 300 presenze. Oggi intanto, primo allenamento per Tommaso Cancellotti, classe 1992. Tommaso Cancellotti è un giocatore che conoscevo bene in Abruzzo perché due anni fa ha militato nel Teramo, lo scorso anno ha vinto il campionato con il Perugia di Fabio Caserta. Arriva al Delfino con quattro anni di ritardo perché faceva parte della lista, potremmo dire così, della spesa dell'ex DS del Pescara, Peppino Pavone, estate 2017. Poi non se ne fece più nulla, insomma per Cancellotti un ritorno in Abruzzo. A Pescara con quattro anni in ritardo, poi ha giocato in BI nel 2017-2018 a Brescia e l'anno successivo nel Cittadella. Il Pescara tra l'altro stringe anche i tempi per Gianmarco Ingrosso, un altro nome di cui si è parlato, è un difensore centrale, classe 1989, di proprietà del Pisa. Lo scorso anno in BI al Cosenza, 26 presenze, tra l'altro trascorsi in Abruzzo dal 2012 al 2014 con l'Aquila in Serie C. Ha vinto un campionato con Giovanni Pagliari e poi l'anno successivo è rimasto in C1 all'Aquila. È stimatissimo da Gaetano Auteri che lo ha allenato a Matera nel 2016-2017. In Serie C 34 presenze e 3 gol per il difensore centrale che è stato anche compagno di squadra in quel Matera di Di Lorenzo, campione d'Europa con la nazionale di Roberto Mancini.